Ha continuato a perseguitare l'ex fidanzata, nonostante fosse stato già ritenuto responsabile di reati con gli stalking e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Un artigiano di 42 anni di modica al termine di un'intensa attività info-investigativa posta in estera dal personale della squadra mobile di Ragusa, è stato posto nuovamente agli arresti domiciliari a causa del persistere di una serie di atti vessatori inflitti alla vittima. Ad emettere la misura cautelare il GIP del Tribunale di Ragusa Claudio Maggione su richiesa del PM Serena Menicucci. La vittima è una libera professionista di 45 anni, costretta a subire continue intrusioni nella vita privata, telefonate indesiderate, al punto da provocare alla malcapitata un forte stato di ansia e paura. In particolare lo stalker era solito effettuare veri e propri blizzi nei locali pubblici frequentati dall'ex fidanzata, nonché presso le abitazioni degli amici in comune. Di recente la vita della vittima era diventata particolarmente difficile per timore di ricevere nuove molestie, aveva paura di uscire di casa fino al punto di trascurare l'attività lavorativa. La condotta posta in estera dal persecutore era finalizzata al tentativo di riconquistare il rapporto sentimentale precedente, vista la resistenza da parte della donna, anche per vendicarsi per essere stato mollato. L'uomo, già lo scorso 28 gennaio, era stato sottoposto alla misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Modica e gli omanenti su richiesta del PM Alessia La Placa. Lo stalking è uno di quei reati oggi punibili penalmente e in forte escalation, pertanto le forze dell'ordine invitano le vittime a non esitare a rivolgersi alla Polizia di Stato e a denunciare perché gli operatori sapranno consigliare alla vittima e dare loro anche aiuti professionali. Grazie.